Momenti di paura all'isola dei famosi, Roger si fa male a un piede durante una prova contro Clemente Russo. Il naufrago si accascia a terra e lamenta un forte dolore alla caviglia, non riuscendo addirittura a parlare. Clemente Russo, intervenuto tempestivamente per monitorare il compagno, invoca l'arrivo di un medico. Le condizioni di Roger sembrerebbero molto gravi, il naufrago viene addirittura trasportato in elicottero nell'ospedale di riferimento più vicino. Roger e Clemente si stavano scontrando nella prova dell'orologio honduregno, dove Clemente ha avuto la meglio sul compagno di avventura, ma l'eccessivo sforzo per la prova ha causato un problema al piede di Roger. Ma una volta giunto in ospedale, la radiografia fa sapere che nella caviglia di Roger non c'è nessuna frattura, semplicemente il naufrago dovrà restare monitorato per i prossimi giorni.